Matteo Cassese, esperto digital marketing, fondatore della Fabbrica della Realtà. Prego. Grazie molte di avermi invitato a partecipare al rapporto Civita e a parlare quest'oggi. Sono qui con voi per fare un piccolo intermezzo, perché non vi parlerò di musei, ma vi porterò in un posto, un posto speciale, un posto che è un po' la fabbrica dei sogni ed è un posto che ci ispira. Ecco, gli executive di Hollywood, che qui vediamo rappresentati dai fondatori dell'RKO, non sono proprio le prime persone che ci vengono in mente quando si parla di innovazione. Nel corso degli anni hanno visto passare di fronte a loro tante cose nuove, in alcuni casi sono riusciti ad agganciarsi a queste cose nuove, tante altre volte hanno perso il treno. Uno dei treni che hanno perso è il treno di internet, tant'è che la distribuzione dei film su internet oggi avviene attraverso altri intermediari. Però c'è qualcosa che hanno azzeccato, e questo qualcosa sono i social media. Allora, oggi vi vorrei dire qualcosa su come i social media hanno innovato il cinema negli ultimi anni, e poi vorrei concludere raccontandovi tre storie legate alla promozione di film sui social media che forse ci possono ispirare, far divertire e raccontare qualcosa anche per poi riapplicarlo all'interno dell'ambito più elevato anche della cultura museale. Allora, iniziamo dalle innovazioni. La prima innovazione, ne abbiamo parlato già prima, è il crowdfunding. E in questo caso lo studio è Warner Bros, il film è Veronica Mars, è tratto da una serie televisiva molto popolare, ed è il film che ha incassato di più in termini di donazioni dei fan. Qui i fan hanno aperto il portafogli prima che il film venisse fatto, e hanno in qualche modo dato una validazione al produttore dicendo se ci sono quasi 100.000 persone disposte a dare quasi 6 milioni di dollari, probabilmente c'è un pubblico per questo film. È successa la stessa cosa anche nel caso di un film più piccolo, un film indipendente, Iron Sky, che ha debuttato alla Berlinale nella sezione Panorama. Questo film non ha solo goduto del crowdfunding, ma ha anche messo al lavoro i fan. In che modo? Il meccanismo si chiama crowdsourcing, ma in pratica il film è stato girato attraverso la tecnica del green screen, quindi non c'erano i fondali. Attraverso una piattaforma collaborativa, un gruppo di fan si è messo a realizzare tutti gli effetti speciali che poi sono serviti a far risultare tutte le scene, come girate su astronavi o sulla Luna, dove si svolge una gran parte di questo film. Un altro momento in cui intervengono i social è il momento della distribuzione. In questo caso parliamo di Paranormal Activity 4, per la cronaca ce ne sono 5 di Paranormal Activity e questo forse dice qualcosa sul fatto che Hollywood sa sfruttare molto bene i fenomeni. E ho scelto il 4 perché su questo manifesto c'è un pulsante, e sono abbastanza rari i manifesti cinematografici dove ci sono i pulsanti. E effettivamente questo pulsante dice Wanted to see it first. E l'invito è quello di partecipare con la propria comunità e con la propria città e lottare per avere le prime proiezioni del film. Chiaramente all'utente sembra un gioco, per il distributore è una risorsa fondamentale, sa dove distribuire e dove essere presente con questo film e dove ci sarà un incasso assicurato. Chiaramente i social media hanno un impatto molto rilevante quando si parla di numeri. E ci sono tanti numeri da misurare. Ed è molto importante vedere che l'approccio anche del Ministero è stato quello di partire dalla valutazione, partire dai numeri. Perché per esempio i numeri consentono ad Hollywood di sapere quali sono i trailer che sono più richiesti. E questo è un dato che, proiettato nel lungo termine, potrebbe anche determinare i risultati del botteghino. Un altro aspetto è poi misurare questi numeri ex post. Per esempio nel caso dell'ultimo episodio di Star Wars, il risveglio della forza, l'episodio 7, sono state contate 234 milioni di interazioni fatte prima e durante l'uscita del film. Ecco, questo è qualcosa che anche con i budget più elevati non si può ottenere. Si può ottenere oggi soltanto con i social media. Ma i social media pongono anche una sfida diversa. Per esempio, una saga come quella di Star Wars o di Harry Potter, o per esempio 007, che è uscito recentemente con un film, Spectre, e che ha vinto anche premi importanti, ha vinto un Oscar, che uscirà in DVD, in tutte le varie edizioni. Che cosa fa quando non esce un altro film, quando il prossimo film non è ancora stato annunciato? Può stare in silenzio sui social? Assolutamente no. La conversazione che si apre quando si inizia a parlare di un film, specie se si tratta di una saga, in termini tecnici, di un franchise, la comunicazione continua, non si può mai interrompere e deve avere sempre una continuità. Un altro aspetto che è molto interessante e che mi consente di parlare in questa sede così raffinata, di un film raffinato per niente, che si chiama Sharknado, e che dal nome, potete intuire, si tratta di un tornado fatto di squali, quindi non è un film di serie B, è proprio un film di serie C, è citato perché è il primo caso in cui un tweet, in questo caso di Kelly Oxford, che è una personalità Twitter di medio livello, un tweet positivo fatto nei confronti di questo film, le ha valso un ruolo nel sequel Sharknado 2, di cui mi piace farvi vedere questa immagine molto edificante. Ora, questo fenomeno del social media casting non si ferma a dei film di serie C e delle personalità, forse, speriamo di serie B o A. Questi due personaggi sono abbastanza famosi e sono, diciamo, abbastanza simili. Da un lato Brad Pitt, dall'altro Vin Diesel, sono delle superstar. Però c'è una differenza tra i due. Brad Pitt, insieme a Angelina, insieme a tante altre celebrity, hanno deciso di boicottare i social network, hanno deciso che i social network non vanno bene per loro. Vin Diesel, invece, è in testa alla classifica delle personalità cinematografiche più apprezzate su Facebook. E se in futuro voi vedrete qualcuno di questi attori, un pochino di attrici, un pochino più spesso all'interno delle pellicole, e qualcun altro un pochino di meno, una delle ragioni potrebbe essere proprio che il loro ranking su Facebook conta qualcosa. E questo si rivede anche nel rapporto Civita, dove i più seguiti in assoluto sono gli artisti direttamente. In questo caso, il potere dello star system non si traduce nel potere del marchio, come potrebbe essere il marchio della Universal, ma si traduce nella popolarità dei singoli artisti. Allora, siamo arrivati a queste tre storie. Tre storie di promozione. Partiamo da un film che è uscito la settimana scorsa, Batman contro Superman, che incontra un altro film. Allora, c'è già Batman contro Superman. In questo caso c'è Batman contro Superman contro Star Wars. Ebbene, sembra un po' confusionaria come cosa, però il regista di Batman contro Superman, Zack Snyder, ha deciso di battibeccare un pochino con Star Wars. Ha preso Batman e gli ha messo vicino R2-D2 dalla saga di Star Wars. Chiaramente la risposta non si è fatta aspettare. C3PO è diventato una sorta di Batman e ha avuto anche il suo simbolo nel cielo. Chiaramente la parola a quel punto era a Batman. La risposta però è arrivata da Superman, che si è vestito da Jedi e con la spada laser ha sfidato nuovamente Star Wars, che ha nuovamente risposto, mettendo il suo protagonista di nuovo nei panni di Batman. La parola finale l'ha data Zack Snyder, facendo arrestare uno stormtrooper di Star Wars dalla polizia di Gotham City. Ora, questo piccolo gioco dimostra non solo che, forse in futuro vedremo un film in cui c'è Batman e Star Wars nello stesso universo, ma anche che i social media sono uno spazio dove giocare. Fate conto che non c'è nessuna connessione, né societaria, né dal punto di vista degli universi tra queste due saghe. Sono veramente due saghe indipendenti. Però i social media consentono di giocare, di fare qualcosa che nella pubblicità e nella promozione ancora non si poteva fare. Il secondo caso di cui voglio parlare, e anche qui, insomma, mi fa piacere portare una testimonianza veramente speciale, è Deadpool, che è forse il film più irriverente ed è sicuramente il supereroe più sboccato che c'è sulla faccia della Terra. Oltre ad essere un film delizioso che è uscito questo febbraio, ha utilizzato i social media in tantissimi modi diversi. Uno dei modi in cui l'ha utilizzato è stato quello di utilizzare dei codici e dei linguaggi che confondono un pochino il pubblico. Chiaramente è un film di supereroi e si presenta in questo caso come una commedia romantica. Il vero amore non muore mai. L'occasione era chiaramente l'uscita per San Valentino. Questo tipo di cose è abbastanza comune oggi, nel senso che molto spesso si gioca, specie con i film comici, e si remixano le campagne pubblicitarie per raccontare qualcosa. Deadpool è andato un passettino oltre, perché ha preso questa creatività, l'ha messa dentro un poster a Los Angeles, che non chiamerei proprio un posto reale, però insomma comunque effettivamente hanno acquistato uno spazio pubblicitario, hanno messo questa pubblicità, ma questa pubblicità sta lì non perché qualcuno la debba vedere passando in macchina, ma perché possa poi rientrare nel meccanismo di social network ed essere ripubblicato, in questo caso, da un tweet del protagonista Ryan Reynolds. Non si sono fermati lì, hanno fatto anche un'affissione che è un assurdo rebus fatto a forma di emoticon e l'unico obiettivo di questa affissione ovviamente non è solo quello di confondere chi cammina per strada con una macchina, ma effettivamente l'obiettivo qui è di essere ripresi e di ritornare nel meccanismo del social. Quindi andiamo a fare delle campagne in realtà per tornare nei social. E il terzo racconto che vi voglio fare ha a che vedere con Zulander e nello specifico con Zulander 2. Ora, Zulander 2, che è uscito recentemente, è stato presentato esattamente un anno fa alla settimana della moda a Parigi. Quello che è successo è che durante la sfilata di Valentino sono usciti i due protagonisti, Ben Stiller e Owen Wilson e si sono però presentati come i loro personaggi, Derek Zulander e Hansel ovviamente. E quello che vedete sullo sfondo, soprattutto dietro al secondo personaggio, sono persone fuori con gli smartphone. Perché chiaramente quando Hollywood fa uno stunt così, è chiaro che vuole la stampa, è chiaro che vuole che le televisioni ne parlino, è chiaro che vuole tutta una certa cassa di risonanza, è chiaro che fa anche delle cose sui social, mette per esempio un tweet ufficiale in cui dice, spiega il cosa è successo e cita anche Valentino in questa situazione. E questo tweet raggiunge quasi 5.000 retweet, quindi niente male. Ma in realtà il vero obiettivo è un altro e per spiegarvelo vi devo far vedere un video di 7 secondi. Allora, questo è un video di 7 secondi per una ragione, perché è un Vine, quindi è un formato così breve e questa è la testimonianza che è stata vista per oltre 30 milioni di volte. Quindi alla fine tutto questo lavoro che viene fatto di promozione si può manifestare nella stampa tradizionale, nelle televisioni, eccetera, però quando abbiamo un social che con un video così, che non è il video ufficiale, che non è la foto ufficiale, che si vede male, che è sfocato, che può avere questa risonanza, beh, vale la pena assolutamente fare tutto. E questa storia si conclude con questa immagine che vede insieme di nuovo realtà e finzione in maniera assolutamente sublime. Al centro c'è Anna Wintour che sorride perché effettivamente ha capito che i confini ormai sono assolutamente sfumati. Allora, cosa direbbero gli executive di Hollywood di tutto quello che è successo sui social media? Qui li vediamo rappresentati dai fondatori della Paramount. Allora, secondo me direbbero che contano ancora i film e che, per esempio, il 2015 è stato un anno straordinario di pellicole di grandissima qualità, di diverso genere, alcune hanno innovato totalmente i modi di raccontare i loro generi, hanno creato nuovi esempi di storytelling. E io mi sentirei di essere d'accordo con loro. Contano i film perché i film poi fanno partire le conversazioni. Un film come Star Wars fa 234 milioni di interazioni perché fa parlare di sé e perché è un film interessante in sé. Però vorrei aggiungere una piccola cosa. Qualcosa è cambiato. Grazie. Grazie a Matteo Cassese che appunto in qualche modo ci racconta non soltanto l'esperienza del cinema ma come evolve questa lunga conversazione della quale parlava al posto del latte a lunga conservazione Marianna Marcucci. Grazie a tutti.